Colpo alla mafia cinese, decisive le dichiarazioni di un pentito, Valentina Fenu. Chiunque voglia comprare Yaba a Roma deve chiedere a Cheng. È una delle informazioni fornite dal collaboratore di giustizia che ha posto le basi dell'indagine China Connection dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Centro coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. I suoi interrogatori sono riportati nelle 140 pagine dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma che dispone 47 misure cautelari. Quanto riferito dal primo collaboratore di giustizia di cittadinanza cinese ha permesso di ricostruire l'architettura di un'organizzazione ramificata in tutta Italia ma con due centri di comando, entrambi in mano a due donne. Il principale a Prato, l'altro, la cellula satellite a Roma. La cittadina cinese, capo della cellula romana detta Lulu era succeduta al comando a un'altra donna arrestata nel 2021. Viene descritta come abilissima nelle trattative con i fornitori e in grado di intrattenere contatti diretti con gli altri vertici dell'organizzazione. Un business che si articolava quasi interamente nell'ambito della comunità cinese è quello del traffico di droghe sintetiche importate dalla Grecia con corrieri su voli di linea o con spedizioni postali. Oltre alla Iaba, la droga della pazzia, l'organizzazione produceva lo shabu che non ti fa dormire per tutto il giorno se ci giochi anche due giorni senza dormire come garantiva un fornitore in una conversazione intercettata dai carabinieri. Sostanze rivendute all'ingrosso o al dettaglio come avveniva in una discoteca alla periferia di Roma dove si fornivano droga e prostitute.